Di fare un lavoro di buon lavoro. Prosegue il giro del prefetto di Pisa, Francesco Tagliente, tra i comuni della provincia di Pisa dopo il suo insediamento nelle scorse settimane. La serie degli incontri con i vertici delle amministrazioni ha fatto tappa a San Giuliano Terme, comune tra l'altro che vive qualche momento di difficoltà. Il prefetto è stato accompagnato a visitare i luoghi più caratteristici del territorio e poi si è soffermato nei locali delle Terme con gli organi di informazione. Ho trovato una realtà molto interessante perché la realtà territoriale è fatta di persone che hanno un ruolo importante per il benessere del territorio. Diciamo che ho registrato delle risorse che riescono ad esprimere un controllo sociale informale idoneo a consentire alle forze di polizia di poter operare con minore preoccupazione che possono verificarsi dei fatti. Fatti che tuttavia sono all'attenzione perché dicevo poco fa al sindaco abbiamo messo in piedi una struttura polizia, carabinieri, finanza, DIA e la magistratura fiorentina e pisana per intercettare ogni possibile tentativo di raggiungere il tessuto economico pisano, quindi della provincia di Pisa. Un'occasione per il sindaco Panattoni per impostare il lavoro futuro in settori diversi. Ci ha fatto molto molto piacere la visita del prefetto, del dottor Tagliente, abbiamo avuto modo di apprezzare oltre che logicamente il professionista e il curriculum parla logicamente per le qualità del prefetto anche l'uomo, la persona e questo credo che sia di grandissimo auspicio per il lavoro che dovremmo fare insieme e che ci auguriamo sia logicamente un lavoro ottimo per la nostra comunità. E' impostato? Prossime tappe? Sì, abbiamo già ragionato insieme sulle cose che possono essere fatte, quindi poi le approfondiremo giusto in altre sedi. Sì, quello che...